Come si pensa al capitale umano? È un ruolo fondamentale, è un ruolo che riguarda non soltanto l'acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e le conoscenze tradizionali sono da sostenere, non da sostituire, ma riguarda anche la capacità di mettere insieme conoscenze diverse e questa è la sfida che ha l'università, quella di in qualche modo formare le competenze necessarie per lavorare, per vivere, per progredire in questo nuovo secolo. Altro elemento immediato e spontaneo è quello che lega il capitale umano all'innovazione. Da tempo ormai si afferma, ragion veduta, che un paese come l'Italia può e potrà competere a livello internazionale solo se riuscirà a puntare appunto sull'innovazione tanto di prodotto che di processo. Secondo lei da questo punto di vista in che situazione ci troviamo? Si investe abbastanza in innovazione in Italia o si dovrebbe fare uno sforzo in più, magari anche con il supporto di maggiori e più efficaci agevolazioni fiscali? Prima di tutto si investe poco, si investe poco in innovazione da parte delle imprese, si investe poco in ricerca e sviluppo che poi è l'applicazione della ricerca di base che non è solo italiana ma internazionale. Da parte delle imprese in complesso abbiamo circa poco più di un punto di prodotto investito in ricerca e sviluppo contro il 3% della Germania, gli Stati Uniti e così via. Quindi questo è sicuramente un limite forte e un po' dipende anche dalla natura del nostro sistema produttivo che va cambiato e quindi se la componente di incentivazione fiscale aiuta andare in quella direzione facendo crescere le imprese e aiutando anche lo spostamento verso i settori che sono in questo momento, quelli sui quali dobbiamo più puntare, sicuramente questo aiuta. Grazie.